GF VIP 7, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la clip di Donna Maria vicino a Nicole Murgia, l'abordata di Anna Pettinelli. È andata in onda ieri sera un'uova, rovente puntata della settima edizione Grande Fratello VIP. Il reality show di Alfonso Signorini ancora una volta ha dato modo ai suoi vipponi di svelare ulteriori retroscena su quanto accaduto nel van. Quando Nicole Murgia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donna Maria e Micolin Curvaia sono andati a nascondersi per cospirare all'oscuro dagli altri concorrenti. Stando a quanto ammesso dall'attrice romana, lo speaker radiofonico le avrebbe toccato il seno. Dichiarazione che hanno sconvolto Antonella Fiordelisi, che è scoppiata a piangere. Per l'influencer di origini napoletane è stata una diretta difficile, ma c'è stato chi non le ha creduto, ovvero Anna Pettinelli. L'ex prof di Amici non ha apprezzato certe scene viste durante la puntata di ieri sera e avrebbe lanciato una stoccata alla Fiordelisi. Dir uguale a LTR lango uguale it piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al GFVIP. Pessimi attori, copione scadente. Non è la prima volta che Anna Pettinelli commenta alcune clip del GFVP7. Nei mesi scorsi aveva esternato la sua antipatia verso Attilio Romita e Dana Saber, lasciandosi andare ad alcune battute al vetriolo. Così come in passato si era già schierata contro Antonella Fiordelisi, affermando. Così come in passato si era o, osserva Cronica che aveva il successore. grazie a tutti